Un terreno di proprietà del comune di Cerignola trasformato in discarica abusiva è stato sequestrato dai carabinieri in un'operazione che ha permesso di individuare una quarantina di suoli adibiti a discarica in provincia di Foggia. Sul terreno comunale di circa 12 mila metri quadrati erano smaltite migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo, inerti da demolizione, preumatici, vetro e materiale plastico. Un'altra discarica abusiva sulla quale erano stati smaltiti rifiuti ospedalieri da parte di titolari di imprese è stata sequestrata nella zona industriale di Foggia. I controlli dei militari dell'arma hanno riguardato i comuni di Foggia, Cerignola, Accadia, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Carapelle, Orta Nova, Panni, Troia, Anzano di Puglia, Candela, Monteleone di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio. Le aree degradate e cinsite sono state segnalate ai sindaci affinché provvedano all'immediata rimozione di tutta l'immondizia mentre sono in corso indagini per risalire agli autori dell'abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti.